Ciao ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale dell'olimpia battemello in questo video vi farò vedere uno slime eccolo qua slime lo battere allora lo andremo a testare con voi cioè lo andrà a testare con voi lo ho comprato dai tra virgolette cinesini andiamo a testare vi ho abbassato una fotocamera no sto scherzando non ci abbasso è vero sto scherzando no no scusate ci vediamo tra poco ho abbassato la fotocamera eccomi qua ragazzi comunque iniziamo allora prima di tutto la morbidezza la morbidezza si dice non lo so non so parlare la morbidezza si è piantati da morbidezza allora e lo slime è strano ve lo consiglio tantissimo comunque questo qua non è un no 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 un botte slime perché ieri lo ho comprato ieri l'ho aperto mi è riuscito un cincino un po' duro non si allungava aggiungo la crema e si è morbido un sacco e anche il limone però il limone ha risa questa consistenza cioè non c'è lungo a più sull'altro devo farlo così non può usare e perde un po' di pezzi allora la morbidezza 10 perché è morbidissimo l'elasticità 7 ma 7 poi alla cliccosità non è molto quicky quindi 3 l'elasticità l'ho detta se mi sbaglio si si ho detta 7 poi il prezzo il prezzo l'ho pagato un euro e vi conviene tantissimo senza che prendete quella dell'elastico che vi escono che vi escono super duri 3 o 5 spiegati senza niente prendete questo qua da un euro che è extra morbido madonna però una cosa una cosa sola questo slime stava dentro dentro una carta tipo una buffina che si chiude con il colpo stava dentro era scomodissimo comodissimo e io l'ho traspettato qua dentro tra l'altro non è neanche uno slime è argillina ok il colore colore 10 10 10 assoluto è bellissimo è troppo bello bello allora la batterosità vediamo se sento le canzoni scusate mi piace la batterosità lo sto lungando ancora 10 10 10 10 è troppo bella la sinosità cioè ora diventano aggiungendo il limone cioè facendo così la sinosità è troppo bella e guardate quando fai così però poi quando lo fai troppo perde i pezzi e questo mi dispiace comunque la batterosità 10 la sinosità 8 8 perché più tanto dopo si spezza tutto troppo figo però ragazzi troppo ma troppo ma troppo figo e niente ragazzi aspettatevi a giotto un fotocamera e niente ragazzi questo era il mio slime ve lo consiglio tantissimo spero tanto che questo video ci sia piaciuto lasciate un bel like se vi è piaciuto iscrivete al mio canale lasciate qui sotto un commento ciao ciao un bacio un bel mio battito no ciao ciao un bacio un bel mio battito no